Grazie a tutti Che cosa ti ha spinto ad avvicinarti a Comunione e Liberazione, cioè andare ad osservare un pochettino con occhio critico il meeting o comunque il movimento, perché poi è stata un'osservazione ad ampio raggio, credo, no? L'idea in questo caso, come in altre indagini, in altri racconti, è la curiosità, la molla è quella della curiosità, della curiosità personale con l'idea un po' presuntuosa che alcune delle curiosità personali possano anche essere una curiosità collettiva. E perciò mi sembrava che il mondo di Comunione e Liberazione fosse poco raccontato al di là della pubblicazione dei comunicati ufficiali in occasione del meeting, che le domande scivolo non potessero raccontare bene in questa esperienza di Comunione e Liberazione e allora ci fosse bisogno anche di un racconto che non partisse da una domanda scivolo. E allora ho provato ad avvicinarmi andando in quello che è il cuore degli appuntamenti annuali del meeting di Comunione e Liberazione, cioè il meeting di agosto a Rimini. Tu hai parlato adesso di domande scivolo, giusto? E invece proprio tu nel libro parli delle domande impertinenti, che dovrebbero essere domande che un giornalista dovrebbe porre per essere un bravo giornalista. E io ho tentato di cercare qualcosa da chiederti per metterti un po' in difficoltà. Brava! Però è stato molto difficile. L'unica cosa che mi viene sia dalla visione dei documentari sia dalla lettura del libro è relativa al fatto se tu durante comunque il meeting abbia avuto occasione di partecipare a dei convegni. Quindi di ascoltare comunque delle personalità anche abbastanza conosciute, di grande anche cultura, non so. Vedo che comunque una mia amica ha partecipato al meeting e mi ha portato il programma, un programma molto ben differenziato, molto ricco, che a mio parere poteva essere considerato anche molto curioso, molto interessante. Quindi no, mi chiedo, hai partecipato a qualche conferenza, hai ascoltato qualche personalità parlare, sporre? Complimenti per le amicizie. No, è una battuta. Allora, sì, a convegni e incontri ho partecipato. Io sono stato due volte al meeting di Comunione Liberazione. La prima, diciamo, tecnicamente non ufficiale, nel senso nel pieno rispetto della legge. Io posso muovermi in un luogo pubblico, come anche voi, insomma, con la mia telecamerina e porre le domande alle persone. Perché quando una persona partecipa a un evento pubblico può essere anche soggetta a ricevere una domanda. E così ho fatto la prima volta. La seconda volta, cioè il secondo anno, dopo che questo primo video è stato visualizzato fra, diciamo, i due canali in cui è uscito da più di 800.000 persone, e si sono accorti che era meglio tentare di chiudere un po' la questione. E allora ho fatto l'accredito giornalistico vero e proprio, doppio. Perché era anche l'anno in cui arrivava Mario Monti, veniva a parlare come presidente del Consiglio, uno degli incontri e dei convegni a cui ho assistito. E perciò gli bisognava fare una seconda rinchiesta, anche alla questura, per avere, diciamo, un incontro anche con lui. Perciò avevo i miei bei pass e potevo accedere ai convegni e agli incontri. E accedevo, diciamo, da giornalista. Perciò, anche avanti, nella parte più vicina, non c'era la possibilità di fare domande. Questa è una caratteristica degli incontri e dei convegni di comunione e liberazione. Che è una caratteristica che già di per sé, secondo me, identifica la situazione. Cioè, è possibile ascoltare, o siccome sono un po' stronzetto, per meglio dire, è possibile riverire, ma non è possibile interloquire. Cioè, non è possibile fare quello che più o meno stiamo facendo noi. Quello che fanno le persone quando hanno una relazione, un dialogo. Non è possibile. Si può semplicemente ascoltare, annuire ed applaudire. Tant'è che al meeting di comunione e liberazione applaudono tutti, da sempre. Solo una persona, in tutte le 35, mi sembra siamo arrivati, edizioni del meeting, è stata fischiata. Lo dico come aneddoto, che però è anche capace di raccontare una parte di storia. L'unica persona fischiata al meeting di comunione e liberazione è stata Paola Binetti. Perché, quando è stata ospite, era in un momento in cui, insieme a Rosi Bindi, parlavano e discutevano in Parlamento della possibilità di riconoscere alcuni pochi e miserrimi diritti alle unioni omosessuali, in particolare con i dico. Cioè, era stata bocciata la proposta del matrimonio, era stata bocciata la proposta delle coppie di fatto. Si stava parlando della possibilità di riconoscere questi pochissimi diritti attraverso i dico, ma era troppo. Veramente la Binetti, insieme alla Rosi Bindi, era un'accoppiata, lasciva per il movimento. Non si poteva. E allora è stata, davvero, storicamente, l'unica persona sonoramente fischiata al meeting. Tant'è che Famiglia Cristiana fece notare questa cosa. Cioè, al meeting applaudono tutti, in senso anche critico. Perché, ovviamente, anche all'interno del mondo culturale, anche cattolico, cristiano, mica tutti sono proni verso comunione e liberazione. Anzi, Famiglia Cristiana è uno dei settimanali o mensili, non mi ricordo che cos'è. Uno settimanale, poi ho avuto varie vicissitudini con ove, poi è diventato. E so, ora è settimanale. E però non mi ricordo cosa stavo dicendo, ma ora ritrovo il filo. E nel frattempo parlo, per non far cadere il ritmo. Famiglia Cristiana. Quando si fece notare questa cosa, al meeting applaudono tutti, e Belpietro, Maurizio Belpietro, al tempo direttore del giornale, titolò, virgolettando, riferendosi a Famiglia Cristiana, al meeting applauditi cani e porci. In realtà, Famiglia Cristiana non aveva mai detto applauditi cani e porci, però aveva detto che si applaude, diciamo, un po' troppo spesso, un po' troppo sempre, e un po' troppo a tutti, cioè manca, in altre parole, la capacità critica, perché non c'è la volontà di interloquire e di relazionarsi. E qui perciò mi riallaccio alla tua domanda. Ho ascoltato, ma senza la possibilità di interfacciarsi con domande, perché questa giornalista è negata. Ho trovato la possibilità comunque di interlacciarmi con i frequentanti del meeting e in particolare con due dei maggiori esponenti del cosiddetto mondo di comunione e liberazione, cioè Lupi e Formigoni. Li vedi uscire da una stanza, questa è una scena anche nel secondo video di comunione e liberazione. Maurizio Lupi uscì e io gli inchiesi se aveva preso lui le ricevute che Formigoni non trovava, delle sue vacanze pagate presumibilmente da D'accordo o non pagate, secondo Formigoni, ma di cui lui aveva le ricevute, quanto sta non le aveva lui. Uscì anche Formigoni e a Formigoni scherzando gli dissi Roberto ti sono cadute le ricevute, e lui ebbe un attimo di leggero panico, stava per guardare giù, capì la battuta, mi guardò e allora sorridendo per rendere inquerenabile la sua affermazione, disse fanculo e mi strizzò l'occhiolino, l'occhio, l'occhiolino, come si dice insomma, da noi in Toscana si dice fece l'occhiolino. No, volevo dire che su Famiglia Cristiana la comunione e liberazione era accusata di applaudire il potere, che è ancora più grave secondo me, che non è che applaude a tutti, applaude tutti quelli che sono invitati a comunione e liberazione rappresentano una forma di potere, non sono invitati i senza potere, perciò per traslato applaudono il potere. Poi in maniera trasversale, perché da Bersani a Monti... Sì, perché è una forma di applaudire se stessi, cioè il potere ti viene venendo lì, ti viene come a riverire e perciò se il potere ti riverisce tu lo applaudi in quanto il potere è venuto a renderti omaggio e perciò è un'orgia di poteri. Dal punto di vista sociologico ci sarebbe qualcosa da dire. Sul potere poi ce ne sono tante da dire. Anche sulle orgie tu dici. Comunione e liberazione. Cosa c'è di comunione e cosa c'è di libertà in quello che tu hai vissuto al meeting? Allora, di libertà, niente. Diciamo che le libertà, intese come scelte individuali, sono messe sotto il tappetino dell'esistenza, sotto la scarpa con cui uno cammina nel sentiero della vita, se la volessi dire in maniera più evangelica. Le libertà non sono contemplate, in quanto possibilità di discernimento personale, in quanto la verità viene ritenuta una, inequivocabile, non derogabile e perciò non soggetta a una possibilità di confronto, perciò neanche di critica, ma proprio di confronto per capire in che forma è meglio percorrere quel sentiero della vita, a volte camminando, a volte correndo, se da soli, in compagnia, in compagnia di chi. Perché questo è già stato stabilito, secondo la visione di comunione e liberazione. Cosa c'è di comunione e cosa c'è di liberazione? Da questo punto di vista è interessante cercare di comprenderlo, perché è anche uno dei fondamenti del cosiddetto movimento di comunione e liberazione. Comunione e liberazione non ha una data fondativa. Si dice che sia nata, cioè si prende come data di nascita l'ottobre del 1954, quando Don Giussani iniziò ad insegnare alla famosa università milanese. Non c'è una data fondativa perché è vero quello che diceva Don Giussani, non c'è stato uno statuto che abbia detto da oggi nasce il movimento di comunione e liberazione. È una cosa che è nata, più o meno spontaneamente, ma comunque senza una vera data di fondazione. All'inizio si chiamava Gioventù Studentesca, acquisì successivamente il nome di comunione e liberazione. All'inizio, fino al 68, quando poi prese davvero il nome di comunione e liberazione, l'idea era quella di una liberazione anche di popoli, tant'è che inizialmente alcune delle riunioni dei movimenti giovanili di comunione e liberazione si svolgevano nelle sedi della Gioventù della FIGC, cioè i giovani comunisti del Partito Comunista Italiano. Perché non vi era una totale comunanza di vedute, ma su alcuni aspetti vi era l'idea di una possibilità di incolaborazione, cioè la liberazione dall'oppressione della dittatura, del capitalismo, delle forme più esasperate, del liberismo anche finanziario, dell'oppressione dei popoli nei luoghi del Sud America del mondo, le cosiddette comunità resistenti di base. E perciò notavano questa possibilità di interazione. E allora volentieri, spesso, le sedi della FIGC davano la possibilità di riunirsi ai ragazzi e alle ragazze, alle donne e agli uomini del movimento di gioventù studentesca. Questa avvicinanza con la possibilità di emancipazione dall'oppressore, questa avvicinanza alle comunità di base, nel Sud del mondo, nelle Americhe, non piaceva a Don Giussani. Tant'è che a un certo punto spaccò totalmente il movimento di gioventù studentesca, da lì prese il via comunione e liberazione, dove si dette particolare importanza alla parola comunione, intesa in senso prettamente evangelico e comunque ed esclusivamente in funzione, diciamo, spirituale, cioè comunione più che fra le persone, come stiamo facendo noi ora, comunione e condivisione, come comunione solamente attraverso la consacrazione dell'ostea e il corpo di Cristo, il che va benissimo anche per un credente, però se si è limitato solo a quell'aspetto e non diventa da lì, diciamo, possibilità e apertura verso il mondo, ebbè no, allora è un po' differente, insomma ci sarebbe da chiacchierarci sopra. E alla stessa maniera, liberazione ha assunto il significato non più di liberazione dalle oppressioni, perciò l'uomo sulla terra, liberato dall'oppressione delle dittature o comunque anche del capitalismo finanziario e anche liberazione, diciamo, dal male per chi crede in senso più ampio. Ma liberazione esclusivamente come idea che l'uomo da solo non possa liberarsi da niente e che per liberarsi sia necessario l'atto della morte e per avvicinarsi nel modo migliore all'atto della morte vi è esclusivamente la possibilità della comunione, dove per comunione si ritorna alla comunione esclusivamente come recinto dell'oste e della consacrazione. E perciò ha ristretto il campo della comunione, ha ristretto il campo della liberazione e l'ha poi portato ad essere un movimento politico, economico, sociale, con radici ampissime nella società ma che poi non lascia effettivamente una libertà, perciò ti parlavo di mancanza di libertà, nell'azione quotidiana di chi aderisce al movimento. Infatti non si aderisce portando e apportando le proprie differenze, le proprie volontà, le proprie storie, le proprie facce, ma si aderisce al movimento prendendone le regole, prendendone i cardini e tentando di assoggettarsi a questo movimento perché non vi è libertà da questo punto di vista nel portare cose nuove ma l'unica libertà concessa è quella dell'adesione. Insomma ha ristretto un po' troppo. Come? Ha ristretto un po' troppo. Ha ristretto un po' troppo, sì. Dal punto di vista di altri no. Cioè nel senso che ad alcuni di questi va benissimo. Ad esempio alle compagnie che fanno parte della CDO, la compagnia delle opere, il braccio economico di Comunione e Liberazione, almeno ad alcune di queste, è una pacchia. È un po' come la crisi economica. Cioè è crisi per noi e per la maggior parte della popolazione ma insomma il divario ha cresciuto fra chi guadagna tantissimo e chi guadagna pochissimo si è accresciuto. Perciò a qualcuno questa crisi non si chiama crisi, si chiama manna dal cielo. Insomma è andata benissimo da questo punto di vista. Poi per la stragrande maggioranza delle persone no. Perciò sì, certo che questa restrizione è anche una limitazione. Per chi vive la vita vera, reale, incrocia le storie. Ma è anche poi poco evangelico il concetto di comunione come stai riportando tu. Perché il concetto di comunione di Gesù Cristo era la condivisione, quindi l'incontro. Scusate ma Gesù era ricco? Che è l'affermazione che il prete mi fa quando io un po' provocatoriamente a proposito delle domande non scivolo. Provocatoriamente ma nulla di incredibile e li chiedo quando la chiesa tornerà secondo lui povera e ricomincerà a cacciare i mercanti dal tempio. E lui non è che risponde presto, tardi è un errore della chiesa oppure la chiesa fa bene non so, dice semplicemente anche Gesù era ricco perché aveva la veste con taglio unico perché aveva la veste con taglio unico cioè riescono a prendere pezzi considerati diciamo storicamente anche con un fondamento cioè questo della veste con taglio unico è perciò considerata più pregiata delle vesti a pezzettini non è una cazzata in senso totale cioè è considerata diciamo vera da qui a portare il fatto che Gesù fosse ricco e che questo perché questa poi è la bestemmia davvero e che perciò se Gesù era ricco anche le loro ricchezze sono giustificate e beh questo è esattamente il contrario di ciò che avviene nel Vangelo cioè vi è un cambio di significato alle parole cioè stuprano i significati nel Vangelo compare mi sembra 63 volte 64, 62 la parola ricco o povero e non c'è una sola di queste volte in cui la ricchezza viene raccontata come un fatto giusto è vero anche che non vi è un respingimento e diciamo un odio verso il ricco perché poi bisogna vedere come il ricco impiega i denari vi è comunque una forma di apertura nei Vangeli ma che è lontanissima dal giustificare la ricchezza come accumulo e ancor peggio perché poi è quello che fanno come accumulo personale e come forma per incidere nella società attraverso un potere che porti all'approvazione di leggi confessionali nello Stato italiano anche perché poi voglio dire è concettualmente anticristiano cioè ipotizzare la ricchezza di Gesù o comunque che Gesù in qualche modo osannasse la ricchezza perché il cristianesimo è stata la grande rivoluzione che ha portato il Dio dei potenti ai poveri quindi il concetto di fondo è quello di portare il Dio dei potenti portarlo ai poveri quindi di fondo proprio è sbagliato per questo il Gesù evangelico a cui loro però non fanno riferimento se non a parole sbagliate era un Gesù sovversivo perché non è una bestemmia cioè sovvertire significa ribaltare cioè portare quello che era sotto che era schiacciato e qui le comunità anche di base resistenti in Sud America riportarlo in alto cioè ribaltare la concezione e per questo certo un Gesù sovversivo un Vangelo sovversivo e anche eversivo ma non in senso diciamo violento eversivo perché rispetto all'ordine costituito cioè quello alto che schiaccia il basso la soletta della scarpa che schiaccia il povero e certo vi è un ribaltamento anche delle leggi esistenti e perciò eversivo e sovversivo che è quello che loro non applicano prendendo le parole invece cambiandoli di ordine e di significato dove perciò il ricco di Gesù diventa ricco il sovversivo diventa per forza violento l'eversivo è un terrorista al potente non si fanno le domande perché bisogna essere educati come se l'educazione fosse fosse diciamo la gentilezza verbale l'aiuto verbale rispetto al potente e non si parlasse invece giornalisticamente dell'educazione verso i lettori si basano molto sull'apparire in un certo modo che è legata alla criticità che invece è il cuore pulsante del cristianesimo la criticità e al giudizio che anche questo non c'entra proprio nulla col cristianesimo non era sicuramente parte di quello che era il messaggio di Gesù voglio dire ma lo stesso Papa Francesco che abbiamo adesso è quello che dice chi sono io per giudicare in riferimento ai divorziati in riferimento alle coppie di fatto in riferimento all'omosessualità mi sembra che ci sia una spinta una tendenza verso un ritorno verso il Vangelo un riavvicinamento al Vangelo relativamente a quello che è stato detto fino adesso vogliamo un attimo parlare del gruppo della concessione del gruppo all'interno di questo movimento allora provo a dividere la domanda in due parti la prima riguarda il gruppo inteso proprio anche come parola e perciò la parola amicizia quando prima parlavo del cambio di significato alle parole un'altra di queste è amicizia perché è o non è una straordinaria parola amicizia? certo che lo è poi bisogna vedere come uno la declina nel rapporto personale e se le cambia più o meno il significato in questo caso il significato è cambiato e loro per la stessa parola di amicizia ad esempio non hanno mai chiesto ad Andreotti grande frequentatore e amico del meeting di comunione e liberazione conto del fatto di essere stato riconosciuto colpevole di rapporti con la mafia fino al 1980 ma di non poter per questo essere condannato in virtù di una prescrizione però rapporti effettivamente riscontrati non gli è mai stato chiesto mentre invece gli è stato chiesta ad esempio l'ultima volta mi sembra nel 2005 opinione sulle coppie di fatto un'altra delle questioni di battute eccetera l'omosessualità eccetera e lui se ne uscì con quell'orrida frase ma insomma alla fine cosa bisogna fare? l'elogio degli invertiti dove ripescava tra l'altro invertiti che è la parola che utilizzavano anche durante il fascismo cioè anche durante il nazismo cioè durante il momento storico in cui non solo erano privati tutti i più elementari diritti e riconoscimenti ma in cui venivano messi nei campi di concentramento i omosessuali insieme a testimoni di Geova ebrei oppositori politici eccetera perciò da una parte vi è il gruppo e la parola amicizia inteso diciamo in senso di lobby e di fidelizzazione del vicino e dall'altra c'è chi aderisce questa è una domanda invece più variegata perché aderiscono in tante e con tante storie diverse in Italia in questo siamo bravi ma credo non solo in Italia qualche buona persona si infila sempre un po' dovunque anche per questo rende difficile diciamo il giudizio netto sul movimento comunione e liberazione anzi no il giudizio sul movimento comunione e liberazione è molto facile però il giudizio sulle persone che fanno parte del movimento comunione e liberazione perché questo è molto diciamo davvero ampio e variegato cioè ci sono migliaia di volontari che davvero si fanno due chiappe così per non dire un culo così tutti gli anni ad agosto per portare avanti il meeting dallo spazzare in terra al pulire i bagni al coordinare eccetera e non è che tutti loro lo fanno con l'idea di una carriera politica o con l'idea di trovare sicuramente lavoro poi c'è anche fra loro chi lo fa per questo e comunione e liberazione è comunque un ottimo modo per piazzare anche le amici e lavorare cioè questo c'è ma non è che tutti quelli fanno questo con quell'interesse c'è davvero chi ci crede è vero che la buona fede non è una scusante sempre per tutto cioè nel senso tu puoi anche in buona fede credere che Berlusconi sia una buona persona ingiustamente condannata ma facendo finta che le telecamere non ci siano e che noi si sia al bar io ti direi tu sei comunque un coglione anche se in buona fede però diciamo perciò non giustifica totalmente però racconta le storie anche diverse delle persone perché ci sono anche persone con enorme sofferenza che si sono trovate qualche parola di conforto e allora dove c'è una parola di conforto e magari uno è anche in un momento di debolezza personale e allora ascolta le parole di conforto e va lì non c'è niente di incredibile o di condannabile a questo punto di vista ti interrompo che così ti faccio perdere il filo infatti questa è l'accezione positiva di questo movimento perché comunque questo movimento è un contenitore poi che cosa contenga come lo contenga e in che modo mantenga chiuso questo perché è un contenitore chiuso per questo ti chiedevamo del gruppo di che percezione avevi avuto questo gruppo che include ma che tende ad escludere più che includere sì io ti dico la verità non la vedo in questa accezione positiva da parte del movimento mentre sono assolutamente incomprensivo verso le persone che per storie personali di vita in buona fede in difficoltà personale magari si avvicinano cioè questo è certo che le capisco totalmente ma non c'è bisogno in un contesto sociale vuoto come quello che stiamo vivendo che vi possano essere dei contenitori delle scuole di pensiero tra virgolette nel caso specifico scuole di pensiero ci sono eh non è che siamo proprio avursi da qualsiasi possibilità di incontro ce ne sono poche però diciamo io non scuso il movimento in generale o i vertici in questo cioè non riconosco questa piccola accezione positiva che se ho capito bene diciamo tu invece li riconosci anzi io per la verità la riconosco come un aggravante perché un po' più alti loro sanno di che cosa parlano cioè non a livelli un po' più alti non possono non avere presente che loro stanno facendo leva sulle difficoltà delle persone per qualcosa d'altro faccio un esempio io la prima video inchiesta in assoluto con che ho girato tra l'altro con videocamera nascosta comprata su ebay andai a botta di sedrina in provincia di Bergamo in un convento gestito da 13 suore e fece per quattro giorni e tre notti quello che era considerato un corso di guarigione per omosessuali con un prete esorcista e quello che era un cosiddetto da lui omosessuale guarito dove per malattia intendeva lui l'omosessualità perciò una persona che attraverso preghiere anche di guarigione attraverso la fede e attraverso l'obbedienza era riuscito ad estirpare da sé la condizione di omosessuale e ristabilire la condizione considerata da lui e da questi settori integralisti della Chiesa Cattolica l'unica possibile cioè quella dell'eterosessualità uomo-donna finalizzata alla procreazione questa persona è Luca Di Tolve tra l'altro salita agli onori o ai disonori delle cronache nella famosa canzone avrete presente di Povia a Sanremo con cui mi sembra arrivò il secondo Luca Era Gay Luca a cui quel grandissimo e straordinario cantante Povia si riferisce è Luca Di Tolve davvero straordinario cantante uno dei cantatori italiani migliori negli ultimi secoli ecco questo è uno di quei pezzettini quando dicono ma voi hai tagliato le interviste per fargli dire anche se voi tagliaste questa parte qui sarebbe comunque chiaro il mio senso ironico sul grandissimo e straordinario cantante che è Luca Di Tolve perciò non si possono manomettere le interviste in questa maniera e quando il giornalista fa il lavoro sporco perché è pieno di giornalisti stronze che fanno il lavoro sporco altrimenti non saremmo al 57esio posto nel mondo per libertà di informazione secondo reporter San Frontier secondo perciò tutti gli indici che racchiude internazionali sulla libertà di informazione il lavoro sporco del giornalista è quello di non fare le domande è solo questo il lavoro sporco del giornalista nella quasi totalità dei casi chi ha organizzato quel corso io penso che sia comunque cosciente di quello che succede o comunque non so se Luca Di Tolve fosse cosciente di questo sicuramente ai vertici ecclesiastici un po' più alti che poi io ho interrogato anche con lettere con ricevute raccomandate di ritorno vescovi perciò tutto provabile è comprovabile ho tutte le ricevute firmate controbollate a casa loro sanno quello che provocano anche in questi ragazzi e loro perciò non li posso scusare non posso pensare che loro facciano un'accezione di bene perché questi ragazzi non hanno trovato conforto nella vita sociale e perciò sono andati da loro perché le loro parole di conforto starai meglio con queste preghiere sono finte parole di conforto perché non stanno meglio le persone che si buttano in terra durante la messa chiedendo perdono perché si parla ovviamente di malattia di diavolo dentro di sé eccetera a loro va tutto il mio straordinario abbraccio emotivo perché loro non sono integralisti loro cattolici sono persone che soffrono però il prete che li racconta invece di pregare per togliere lo spiraglio del diavolo in sé ecco quello è un prete quella è una persona stronza prima di ogni altra cosa e su questo il prete non mi inquerellerà mai per questo ora non mi ricordo il nome insomma si ritrova quello è proprio uno stronzo perché a una persona così che soffre tu gli racconti una visione integralista falsa, falsata tra l'altro condannata dall'ordine degli psicologi cioè fuori da ogni incongesione ma anche cristiano non ha niente di cristiano cioè il papa che abbiamo oggi sussulterebbe sulla sede dire ma cosa dici? cosa dici? perché non mi inquerellerà mai? perché altrimenti dovrebbe mettersi in rapporto e andare a raccontare in un tribunale perché lui provoca queste sofferenze perciò tipo non so io mi prendo 500 euro di rimborso a lui e lui si prende una condanna anche penale questa è la questione tu dai troppa capacità di essere di esprimere consapevolezza mi dà anche un po' fastidio questa paganità nel portare avanti i valori cristiani perché proprio vengono portati avanti con così osservando tutta questa ritualità pagana però io credo che non abbiano tutta questa consapevolezza la più parte delle volte non so forse io voglio vederci un pochettino più di buona fede dipende dipende da chi se tu mi parli la maggior parte dei preti può anche darsi poi ci sono quelli straordinari anche qui ho uscito donna Alessandra sono tornato alla comunità di base delle piagge e quello a cui facevo riferimento io era proprio quel prete che insieme a Luca di Tolve teneva il corso di cosiddetta da loro guarigione dall'omosessualità perciò lui aveva un chiaro indirizzo aveva studiato quello raccontava quelle ragazze faceva l'esempio dell'omosessualità come cosa che viene magari da una madre troppo apprensiva perché ti ha detto copriti perché fa freddo una volta in più di un'altra madre oppure la figura paterna non tanto presente in famiglia o perché è morto perché lavora troppo o perché magari era succube della madre perciò troppa madre sempre colpa poi delle donne che poi alla fine si ritorna sempre lì e allora magari anche da lì nasce l'omosessualità ecco da tutte queste forme da tutte queste modalità io non credo che quel prete specifico potesse essere inconsapevole lui sapeva le dinamiche che suscitava e quei racconti con il finale in alto per infondere senso di colpa frustrazione nella persona poi sono d'accordo con te che magari ad altri che predicano comunque l'omosessualità come peccato magari non ne sono tanto consapevoli hanno comunque la colpa perché ovviamente tu lo racconti perciò se lo arrivi a raccontare è comunque una colpa però fino a qualche anno fa anche la medicina la considerava una malattia l'omosessualità fermo restato che non lo è non lo è mai stata per fortuna anche su DSM adesso non è più una malattia però era considerata una malattia ma per questo non si cammina quando si parla del sentiero dove si cammina è perché si percorre non so se avanti però si continua a camminare insieme non so camminare domandando mi piace sempre citare comunità resistenti di base il Sud America prego prima tu parlavi di comunione e liberazione e dicevi appunto che non si apportano non si riesce ad apportare una propria diversità quindi un pensiero critico rispetto a quello che c'è fuori quindi rapporto tra comunione e liberazione come gruppo chiuso e omologazione cosa pensi che possa fare un gruppo chiuso rispetto a delle persone che vogliono crescere un gran male che fa un gran male perché le persone vogliono crescere le persone sono fatte per crescere siamo fatti per crescere o siamo nati per crescere insomma perché già siamo fatti già con nota in senso evangelico siamo nati per crescere così va bene comunque chiunque la pensi comunione e liberazione è un movimento che pensa di essere l'amico prediletto di Gesù quando uno pensa di essere l'amico prediletto di Gesù qualsiasi cosa fa se la giustifica perché io sono l'amico prediletto di Gesù e tutto quello che è fuori dal movimento fuori dal gruppo viene considerato in errore o addirittura senza fede perciò vieni vieni da noi perché la fede siamo noi che siamo gli amici prediletti di Gesù con alcune poi forme di butad clamorose ad esempio anche rispetto agli altri movimenti religiosi con cui hanno rapporti ma che non sono un granché con azione cattolica con i focolarini visioni e divisioni anche molto ampie perché pensano di essere i prediletti e quando uno pensa di essere prediletto e cioè di avere lui la verità assoluta in tasca per questo amico Gesù di loro perché dice perché noi abbiamo la verità e perciò ci sa amico il fatto è che la verità non ce l'hanno e forse penso non sono nemmeno gli amici prediletti però questo non lo so sicuramente sul fatto che la verità è più facile invece dirlo ed inducono le persone più o meno volutamente a una non crescita perché perché viene confusa quella che è anche per chi crede una norma ecclesiastica come ad esempio non dare la comunione divorziati con una verità assoluta di fede le stesse norme ecclesiastiche sono possibili soggette a cambiamenti ad esempio non dare la comunione divorziati che è diventata una prassi e vinta da una modalità di agire da alcune letture evangeliche però non è mai stata considerata una verità assoluta di fede tant'è che lo stesso Papa Francesco di cui si parlava prima non è che abbia detto date da oggi la comunione anche divorziati ma ha iniziato con un processo e con un passo anche abbastanza lungo rispetto di solito ai ritmi ecclesiastici a mettere in discussione quella che era la norma la prassi che i divorziati non dovessero avere la comunione in chiesa mentre tutto quello che viene da comunione e liberazione viene fatto passare come verità assoluta di fede perciò niente può essere messo in discussione e per questo anche l'obbedienza assoluta anche al diretto superiore perciò a tutti i superiori e questo è chiaro che immobilizza e fossilizza perché se ci deve essere un'obbedienza assoluta perché quello che dice il diretto superiore è verità assoluta e non c'è possibilità di cambiamento attraverso l'apporto delle proprie storie individuali delle proprie vite delle proprie esperienze delle proprie emozioni anche delle proprie contraddizioni perché poi si incresce anche attraverso un confronto fra contraddizioni è questo che crea una relazione e un'interazione cioè non si incresce mai da soli perciò non si incresce mai neanche attraverso un'obbedienza ad un unicum e per questo dice che cosa fa a un giovane che fa come si dice a Firenze fa di molto male perché evita la possibilità di crescita attraverso il confronto poi o intendiamoci non è che uno fa male ma non è che esce un diavolo cioè poi dipendono comunque le proprie storie le proprie forme che escono anche che esce quello con le cornette rosse perché poi si sa contrario anche a questa idea non esce questo poi ognuno ci mette comunque se nel mezzo perciò dice ma io sono stato dieci anni in Comune di Liberazione sono perso e perduto sono un diavolo ma no perché comunque il proprio diciamo bagaglio emozionale alla fine c'è sempre perciò diciamo ci si può salvare anche se si è fatto parte di Comune di Liberazione diamo una speranza e una parola di conforto tu dicevi che con la criticità di pensiero si cresce in effetti è l'unico strumento di crescita no? di confronto certo questo movimento che tu illustri così bene sembra quasi uno specchio della comunità nella quale noi viviamo è una comunità omologata e omologante è una comunità assolutamente vuota a livello ideologico noi siamo un gruppo noi siamo un gruppo di lavoro mancano dei componenti il gruppo e noi basiamo la dinamica del gruppo sulla criticità quindi sulla diversità sull'incontro e ne escono delle cose dignitose insomma nel senso che non sempre possiamo essere d'accordo non è pane amore fantasia qui è a volte sono conflitti però bisogna anche imparare ad affrontarle i conflitti cosa che dentro a questo movimento mi pare che non si impari a fare ci sono le magliette tutti sorridono vendono le magliette non ho niente da protestare ma solo da ringraziare che è una maglietta terribile ma è terribile ma come fai perché cioè che poi tutte le migliori leggi che abbiamo oggi sono venute fuori perché c'è qualcuno che a un certo punto ha detto e hai iniziato a protestare e non era da solo e si è formata una collettività che protestava anche antistorico assolutamente io ti volevo chiedere dato che comunque la tua posizione già a partire dal titolo del libro direi che abbastanza esplicita e proprio in riferimento a questo volevo chiederti se tu hai mai avuto delle ritorsioni perché comunque vai a puntare il dito contro vari poteri diciamo vari lobby anche molto importanti e quindi se ti è mai capitato è successo comunque di ricevere ritorsioni o qualcosa rispetto ai tuoi lavori documentaristici le tue interviste qualcosa sì ma non rispetto al mondo ecclesiastico anzi al mondo di comunione e liberazione nel senso che beh si offese a bizzeffe che io lascio tutte sotto i video perché alcune sono straordinarie e assolutamente esemplificative e un paio di paginette ho raccolto diciamo le più divertenti perché poi quando l'offesa è troppo è veramente troppo esagerata parla di lucifero è divertente perché a un certo punto poi bisogna anche ridere per destrutturare il potere e ritorsioni in ambito lavorativo mai ma perché sono sempre stato assolutamente indipendente o comunque dipendente esclusivamente dal mio lavoro ho lavorato in teatro facendo spettacoli per alcuni anni però spettacoli io cioè nel senso erano monologhi io li producevo perciò non ho avuto la necessità di entrare diciamo in altre compagnie e ora lavoro a fanpage.it che è uno dei migliori portali di informazione online in Italia abbiamo oltre 2 milioni di visitatori unici al giorno e non riceviamo nessun finanziamento e siamo grandi e laici abbastanza per avere una serie anche di opinioni diverse all'interno del giornale e per lasciare alle varie persone che ci lavorano la giusta libertà sono due anni però è sempre andata così sono straordinariamente contento perciò no non ho mai avuto nemmeno in ambito lavorativo nessun problema è vero che non ho mai fatto rinchiesta di entrare non so al Corriere della Sera o ad altri portali di informazione le uniche cose diciamo fisi che diciamo di ritorzione che poi ormai si parla di qualche anno fa e nemmeno perciò recenti le ho avute con un'inchiesta sulla estrema destra governativa e non in Toscana in cui raccontai sia la destra al governo diciamo non al governo ma insomma all'interno della governance insomma all'eletti insomma di cui la destra si presenta alle elezioni e la destra invece cosiddetta diciamo estrema radicale o addirittura anche avversiva che sta fuori tentai di raccontare queste due cose e lì e lì e lì ebbe ad esempio la serratura della cabina teatrale un minuscolo spazio sociale che ho a Firenze che do liberamente in gestione la serratura con l'Attac chiusa una volta passarono lanciavano delle palline di giornale contro la vetrata la vetrata leggerissima perciò rimbombò tutto insomma cose cose del genere e un paio di scritte con svasti alla stazione Saverio Tommaso non ci fermerai perché io qualche giorno prima avevo cancellato altre svasti però ecco insomma non cose particolarmente gravi diverse lettere dagli avvocati che mi dicevano di ritirare vari video altrimenti avrebbero fatto causa ma siccome sto attento a queste cose anche quando parlo sono molto diretto però però più o meno conosco diciamo il livello legale entro in cui muoversi sto attento e infatti non ho mai ritirato niente non sono mai riusciti a farmi nemmeno una causa ricordo Borghezio che rideva mi pagherò le vacanze Saverio Tommaso con te c'è il video mi sono pagato e dicevano gli altri ghisti mi sono appena pagato le vacanze col video che farà Saverio Tommaso eccetera poi ovviamente non ha mai fatto una causa perché avrebbe perso pur essendo avvocato Borghezio era venuto a Firenze in quell'occasione quando urlò questa cosa a fare una ronda per la sicurezza e io nella mia domanda vi ricordavo i suoi due condanni penali fra cui violenza privata sul minore e li chiesi se potevo fare una ronda intorno a lui a proposito delle domande un po' stronzette però mi sembrava fai la ronda con la gente protesta parlava male di quelli dei centri sociali era venuto a contestarla ma te c'hai due condanni di una violenza privata sul minore ma ti rendi conto? la scuola della formazione l'influenza di CL nel processo formativo l'influenza di CL nel processo formativo ti sei beccato una bella domanda difficile CL ha capito benissimo dove andare ad acire e perciò agisce nell'istruzione soprattutto su due livelli quello degli asili più piccolo dove c'è il bambino spugna che recepisce qualsiasi cosa e nel livello più alto quello perciò di specializzazione universitaria agisce poi agisce anche sugli altri ma in questi due in particolar modo e anche superiore ci agisce con forza con quanta più forza li riesce da una parte indirizzando quando il bambino è nei primissimi anni e nell'altro formando i cosiddetti quadri dirigenziali le future classi dirigenti del paese e questo finisce anche e contribuisce anche anche quando quelli lì non diventeranno classi dirigenziali ma alcuni poi lo diventano contribuisce a formare la cosiddetta opinione della società cioè il magma in cui poi ci muoviamo tutti quanti noi se all'istruzione uniamo l'aspetto della sanità e l'aspetto più politico e quello della fede capiamo come mai noi con comunione e liberazione abbiamo a che fare tutti i giorni anche quando pensiamo di non averne niente a che fare perché ne abbiamo a che fare anche quando andiamo in un ospedale pubblico a curarsi perché l'ospedale pubblico ha qualche finanziamento in meno perché si è deciso di aiutare anche le strutture sanitarie private alcune delle quali afferenti anche al mondo di CL e nell'istruzione stessa cosa scuola pubblica scuola privata io parlo dice ma io non ho nessuno che va a scuola proprio come faccio avrai avrai un nipote avrai un altro bambino parlo con te che magari tu hai il nipote o la bambina abbiamo tutti i giorni a che fare col mondo di CL per questo ho scritto anche un libro sul CL perché insomma è materia che tocchiamo anche quando pensiamo di non averci a che fare e l'istruzione è uno dei campi in cui mi mi provoca lo dingo in maniera forte però una repulsione maggiore perché vi è il tentativo di destrutturare la conoscenza e di ristrutturarla a proprio piacimento ci sono anche esempi concretissimi esempi letterari che loro utilizzano non so l'appropriazione di Leopardi è un must è un cavallo di battaglia mostri anche sono state fatte su Leopardi sul suo presunto il suo pessimismo sul suo mal di vivere poi non è proprio così ma insomma raccontiamola così come si racconta ai ragazzini delle medie in cui questo mal di vivere sarebbe la mancanza di una via vicina alla fede ma non era così insomma Pavese la destrutturazione di Dante il salto in alcuni casi di interi canti di Brunetto Latini messo nella Divina Commedia nel quindicesimo canto quello dei Sodomiti ma a cui Dante perciò nell'inferno ma a cui Dante con forma di rispetto riservata a pochissimi io ricordo Brunetto Latini e Ulisse nell'inferno da del voi perciò pur in quei tempi antichi andati pur trattandosi di Dante perciò di un avanguardista della nuova religione diciamo dei popoli però gli dava un rispetto particolare e questo però è un po' contestualizzarlo e raccontarlo nelle classi perciò di solito il quindicesimo canto non si fa però proprio ecco lo stesso utilizzo delle figure Pavese Leopardi Foscolo a proprio uso e consumo come se Comunione e Liberazione avesse avuto un prodromo ancora prima che nascesse come se fosse venuta fuori perché già chiamata dai grandi della storia già evocata dai grandi della storia al di là della supponenza in questa affermazione in questa concezione ma poi non era così perché nessuno di questi autori aveva questi riferimenti culturali il fatto è che CL non ha riferimento culturale neanche nel Vangelo che utilizza proprio uso e consumo ma in cui non si ritrovano le loro cosiddette parole d'ordine ad esempio evento una parola a cui sono affezionatissimi beh non si ritrova col significato che le attribuiscono loro e allora c'è la necessità di crearsi veramente dal niente un retroterra culturale per giustificare il proprio pensiero nell'oggi e allora questo sull'istruzione sulla formazione con delle bestemmie culturali date ai giovani ai ragazzi perché quando si porta la storia e la letteratura in una forma in una modalità che non è quella che la letteratura ci ha raccontato quella che gli autori hanno interpretato ma è quella che a noi fa comodo raccontare per avere oggi maggiore potere sull'esistente si commette una bestemmia e questo nell'istruzione e questo in realtà anche in altri riferimenti culturali leggermente fuori dall'istruzione anche con altri movimenti non so penso all'utilizzo della figura di Sienkhevara anche di alcuni movimenti di estrema destra così appropriandosi tutte queste figure già si sono appropriati di Ezra Pound la destra sembra Ezra Pound fosse un estremista di destra ma dove è? ma dove è? perché? anzi uno dei primissimi a parlare in forma molto critica contro la finanza speculativa perciò eventualmente eventualmente di sinistra radicale anche se ora pure non so c'è pure Casa Pound che tenda di parlare contro la finanza speculativa dopo che per anni si sono avvalsi delle menti della destra governativa che invece sulla finanza speculativa ci poneva un essere invece che un argine come dici che si sarebbe posto Don Milani nei confronti del percorso formativo indotto da CL ma senti non mi sento di dire come si sarebbe posto Milani rigiro la risposta da quello che ho capito io dell'insegnamento di Don Milani avrebbe fatto quello che fece Gesù con i mercanti del tempio cioè con un frustino dell'epoca li cacciò dalla casa di Dio non so se Don Milani avrebbe fatto questo quello che ho capito io dall'insegnamento di Don Milani è questo tu nel libro comunque dici che questo gruppo comunione e liberazione non è facilmente individuabile cioè loro si nascondono latitano io in generale penso che comunque in riferimento anche all'istruzione al mondo dell'istruzione ci siano varie influenze non solo da parte del diciamo del cattolicesimo ma anche delle rivisitazioni diciamo anche dal punto di vista la storia la rivisitazione storica detto questo volevo dire penso che ci sia soprattutto per quanto riguarda l'educazione al Vangelo comunque anche semplicemente la conoscenza un'incrostazione soprattutto nei ragazzi italiani io prima mi sento molto ignorante se devo essere sincera perché ho fatto catechismo i miei genitori mi hanno mandato a catechismo e su determinate cose il Vangelo l'ho conosciuto attraverso delle immagini che mi sono state insegnate quindi io ho quell'incrostazione ho quella diciamo quella prospettiva quella visione prospettica che mi è stata instillata detto questo non mi sento cioè quindi quello che dovrei fare io come tantissime altre persone soprattutto in Italia sento questo perché c'è ovviamente un'influenza in tutta non solo presso comuni e liberazione ma proprio nella scuola italiana oppure nel nel mondo nostro cioè nel mondo quotidiano sia che può portare o a una reazione opposta anche un po' troppo estrema quindi la chiesa è qualcosa di rifiuto della chiesa senza conoscere però cioè proprio perché si hanno comunque non si ha una vera e propria educazione alla lettura a quella che dovrebbe essere la lettura vera del Vangelo della Bibbia una conoscenza più critica appunto di quello che dovrebbe essere anche il messaggio di Gesù di Gesù Cristo semplicemente ma si ha quindi un'interpretazione che viene fatta passare come vabbè come quella assoluta e quindi da lì poi si creano degli errori delle distorsioni sia da parte sia da parte di quelli che accolgono questo pensiero sia da parte di quelli che invece lo rifiutano ma in maniera troppo estrema non so se mi sono spiegata forse a volte quindi sì la domanda la domanda la domanda in realtà era solamente una considerazione e faccio no forse perché a me non piace mai essere troppo stigmatizzare probabilmente tu hai avuto più a che fare con questo movimento comunque ti sei trovato a fronteggiare comunque determinate persone intervistate però io mi forse perché sono ingenua però sono in credola nel pensare che tantissime persone non siano in grado di cioè si assoggettino a non so delle verità assolute non utilizzino la testa del pensiero e non le mettano in dubbio noi siamo il paese dove Berlusconi a tutt'oggi ha più del 20% del consenso cioè a tutt'oggi e quindi io rimango in credo ma sono anche molto ingenua mi rendo conto e sono anche molto idealista no 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 solo come purtroppo è così ecco io rimango ancora esterefatto io sinceramente ero esterefatto anche quando ero in prima superiore nel 94 se mi sembra cioè ero già abbastanza esterefatto ma ma oggi cioè io capisco qualche errore di percorso ma non dico poi quando si va all'estero cosa cosa ti dicono dovunque ma ho viaggiato dall'Egitto dovunque ho viaggiato tutti Berlusconi ma perché c'è ancora Berlusconi ma la gente non se lo spiega giustamente o o comunque anche in Francia non è che sono messi benissimo cioè c'è Marie Le Pen a circa il 30% che non è proprio come Forza Nuova qui diciamo è un po' come Casa Pound sulla riflessione ti dico questo se ho capito bene sono d'accordo anch'io bisogna comunque cercare di comprendere cioè io l'odio urlato non credo sia utile in nessun caso e ti faccio un esempio pratico il primo video su CL uscì con il titolo Saverio Tommasi alla scoperta di comunione e liberazione ed ha avuto ad oggi circa 220.000 visualizzazioni un po' di più tre settimane dopo lo ripubblicò un altro canale preso pari pari dalla sigla al logo tutto quanto sul proprio canale YouTube col titolo Video Shock in maiuscolo sulla Chiesa Cattolica guarda ora prima che lo censurino questa roba ne ha avute più di 680.000 cioè circa il triplo di quelle che ha avuto dal mio canale dove è uscito per primo e dove in realtà dal fatto quotidiano ad altri lo hanno sponsorizzato da lì però il titolo urlato più di odio diretto eccetera funziona enormemente di più però non è quello che ho scelto la sua considerazione che è condivibile dal mio punto di vista è assolutamente condivisibile però non fa altro che andare a ribadire è ciò che la non consapevolezza e il tentativo di omologazione di una comunità sortisce noi tutti i giorni voglio dire io sono a contatto con disagi di tipo relazionale che nascono proprio da questo quindi per questo anche mi ha come dire soleticato molto la lettura di questa di questa inchiesta insomma di questo tuo lavoro su comunione e liberazione come movimento ma ripeto come specchio di una società secondo me non è tanto lontana dalla nostra comunità di appartenenza comunione e liberazione e questo ahi noi mi viene da dire perché ciò che manca e che comunque ci affossa perché ci fa sentire diversi degli outsider comunque ma non in senso favorevole in senso assolutamente sfavorevole perché se tu pensi diverso se tu ti vesti diverso se tu hai degli obiettivi diversi da quello che vuole cioè da quello che può essere diciamo considerato funzionale al sistema sei malato il discorso dell'omosessualità che si faceva prima era perché comunque effettivamente la diversità anche nell'ambito medico psicologico faceva e purtroppo fa ancora molta paura perché non sai come prenderla o l'approccio anche differente dal punto di vista terapeutico viene sempre visto con un occhio un pochettino così quindi tutto sommato mi viene non dico da giustificare ma da dire vabbè fa parte di questa comunità a cui noi apparteniamo anche comunione e liberazione questo però dovrebbe stimolarci a cominciare a cambiare non comunione e liberazione che si facciano quel che vogliono ma la nostra comunità dire prendiamo esempio guarda Saverio ci ha fatto vedere questo aspetto quello che abbiamo un po' detto tra di noi ci ha fatto vedere questo aspetto ci ha acceso un pochettino gli animi ci ha fatto venire voglia di andare a leggere delle altre cose così noi abbiamo fatto adesso però facciamo siccome noi non abbiamo nessun rapporto con comunione e liberazione facciamo riferimento alla nostra realtà che cosa di comunione e liberazione per dire comunione e liberazione ma ce ne sono tanti altri movimenti analoghi troviamo nel nostro sistema sociale che ci schiaccia che ci fa stare male perché poi fondamentalmente è questo quindi è l'omologazione dobbiamo pensare a tutti allo stesso modo se ci pensate quindi le verità assolute che siano in ambito religioso o che siano in ambito della moda per dire tu hai fatto anche un bel lavoro te l'ho anche scritto su Facebook sulle anoressie mi piacerebbe molto ampliarlo quel lavoro in fondo i disturbi del comportamento alimentare sono una diretta conseguenza non delle fotomodelle non della mamma cattiva quello lo diceva la Hildebrock negli anni 50 ma sono una diretta conseguenza dell'omologazione del pensiero del vuoto nel quale siamo immersi e comunione e liberazione è il vuoto nel quale si è rimasto cosa c'è di pieno cosa c'è di religiosità cosa c'è di valori cristiani in un movimento come questo che quanti valori cristiani hai trovato nessuno mi parte per capito sinora no? però ma pensaci a parte i dogmi in quanto tale no non sono non sono quelli valori cristiani pregare tutti insieme di fronte al banchino del merchandising che tra l'altro era di fronte all'entrata non è un valore cristiano ma è anche di quelli più bassi ora non non che Gesù Cristo nel caso in cui esista ci rimanga particolarmente male da quello però sinceramente c'è stona anche con le lezioni più facili del catechismo senza andare a prendere chissà quale prete di comunità resistente di base cristiane la gente entra lì centinaia di persone il gruppettino sta lì prega di fronte al merchandising con la maglietta non ho niente da protestare ma solo da ringraziare cioè come se poi Gesù non fosse stato il primo protestatario della storia comunque tu hai fatto una fotografia non solo ad un movimento religioso secondo me tu hai fatto una fotografia alla nostra comunità di appartenenza questo deve farci pensare tantissimo perché al di là della curiosità dell'interesse dal punto di vista culturale o meno di questo movimento quello che hai portato sulla carta e sui video che poi i video sono facili da vedere è difficile in realtà poi portare delle domande poche domande insomma perché è un argomento talmente vasto ma perché lo sentiamo così vicino a noi perché tu hai parlato della comunità a cui noi apparteniamo e che ci fa stare male credo faccia stare male anche a te sì sì sono d'accordo ed è il motivo un po' che mi ha spinto a fare quei video questo libro e anche tutti gli altri video cioè l'idea di poter raccontare incuriosito una storia pensando che non sia una storia affine a se stessa prima parlavo della curiosità è una curiosità diciamo un po' più grande ma è quello perché incuriosisce perché non è limitato diciamo all'aspetto mio personale ma con un po' di presunzione penso sia ampliabile all'aspetto personale di tanti e perciò quando l'aspetto personale è di tanti non diventa più aspetto personale ma diventa aspetto collettivo come credi che venga considerata da comunione e liberazione la donna visto che è un argomento che mi interessa particolarmente che cerco di approfondire fra i vari movimenti dove la donna non ha un ruolo rilevante o viene considerata una simpaticissima appendice per la verità comunione e liberazione non è uno di quelli da questo punto di vista più estremi in questo credo ripercorra moltissimo la situazione dell'intera società italiana in comunione e liberazione mentre in altri contesti in altri movimenti il ruolo della donna assume proprio la funzione di ruolo cioè di un qualcosa che serve ad altro in comunione e liberazione non in forma maggiore di come non lo assume all'interno di come diciamo in parte già non lo è considerata all'interno della società in questo diciamo non vi è un aggravio è vero che all'interno della società non è che ci sia questa grandissima emancipazione nell'idea prevalente non assoluta ma prevalente delle persone perciò è comunque diciamo un punto a sfavore verso comunione e liberazione però per quello che ho potuto vedere non con un aggravio di responsabilità tu avevi notato qualcosa in particolare avevo notato appunto che non veniva considerata comunque la donna se non non ne viene non viene menzionata per quale motivo e tu fai riferimento a tutta la questione dei titoli perfetto bravo però è come è un po' riportare scusa se ti interrompo è un po' riportare quello che poi si sente anche all'interno della società perché comunque bene o male una discriminazione è presente della donna all'interno della nostra società io la penso così è un po' purtroppo anche esattamente come avviene nella società il non nominarla ad esempio nei titoli o usare il femminile solo quando sono tutte donne e il maschile quando magari c'è un uomo e ci sono un uomo e tre donne come una liberazione lo porta assolutamente avanti ma è una pratica purtroppo invalsa anche nelle altre sfere della società stamattina prima di venire con voi ero a fare la fattoria un giochino con mia figlia in cui deve toccare gli animali a seconda del suono che fanno perciò e va a toccare la mucca se lei tocca la mucca dopo aver sentito la voce gli dice bravo quella è la mucca lo fa sull'uccellino e gli dice bravo quello è l'uccellino lo rifà sul maialino va a toccare il maialino rosa bravo quello è il maialino però non è che ogni tanto dica brava ogni tanto brava oppure che ne so potrebbe dire tu sempre brava che cambia no è sempre bravo e questo non fatto con cattiveria ma anche tante anche donne e tanti anziani quando era ancora un po' più piccolina bellino questo bambino anche se magari aveva già gli occhialini rosa oppure un fiocchettino rosa per dare un'idea e aiutare nel riconoscimento uno esterno è sempre maschio perché comunque è un complimento maggiore se è un bambino quindi alla fine mi viene da pensare che l'idea anche di un cambiamento rispetto a questa considerazione quindi di considerare la donna al pari meglio non lo so comunque considerarla in modo diverso ad avvenire come pensiero come possibilità di cambiamento di idea quindi non c'è un'apertura anche rispetto ad un'idea diversa da quella che è della società comunque per tanti versi sono anche un pochino più indietro ora su tanti aspetti perciò che per l'appunto venga da loro diciamo anche un'emancipazione culturale non solo economica a livello di stesso contratto siamo un po' improbabili insomma erano all'opposizione a tutto erano all'opposizione alla legge sull'aborto erano all'opposizione anche al divorzio azione cattolica era favorevole a una legge che regolamentasse il divorzio con una liberazione no ci parli di Don Alessandro Santoro della comunità di base delle piagge il Donale Prete Cazzuto come lo definisco lì nel libro cerco di stare nei tempi che non so quali sono ma insomma cerco di non esondare troppo a Firenze esiste questa straordinaria esperienza di comunità resistente di base che sta alle piagge che è un quartiere periferico di Firenze è la periferia rispetto al centro ma non è la periferia delle storie infatti le storie che passano dalle piagge si intrecciano si incrociano vengono da varie parti d'Italia e da vari paesi del mondo è uno spazio in cui viene detta messa ma non è una chiesa è un prefabbricato tirato su da alcuni volontari viene rifiutata l'idea di chiesa in muratura non in senso assoluto quanto come esperienza è lì e perciò vi è anche un'idea di scarnificazione del sentimento rispetto all'orpello dove l'orpello è la carne e lì invece rimane il vissuto cioè l'ossa ciò che fa il nostro corpo e l'esperienza stessa vi è un'idea di possibilità di camminare fra persone diverse differenti che è un'idea semplicissima e banalissima è difficile la sua pratica e per questo diciamo è in cammino costante per diciamo tenere a mente la pratica fra diversi che è poi l'idea fondante anche del stare bene insieme difficile ma necessaria un'ultima domanda come descriveresti il tuo modo di fare giornalismo allora il mio modo di fare giornalismo io racconto storie racconto le storie attraverso ciò che vedo e perciò con i miei occhi che di per sé non dovrebbe essere una cosa particolarmente strana non sempre diciamo è così nel giornalismo italiano grazie a tutti grazie a tutti Grazie.